Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sull'A1 a Milano-Napoli tra Barberino e Calenzano verso Firenze. Per incidente, ora risolto, troviamo 6 km di coda in diminuzione tra Aglio e Calenzano e 9 km per chi percorre la direttissima a partire da Badia. Chi viaggia verso Firenze può uscire a Barberino, percorrere la SP8 militare barberinese e rientrare in autostrada a Calenzano. Sempre in A1 per incidente, coda di un chilometro tra Valdarne e Arezzo verso Roma. Per traffico, inoltre, code a tratti tra BV1 con planare Firenze Nord e BV1 variante verso Bologna. Carragiato opposta, 3 km di coda per incidente tra Badia e Aglio. Ci spostiamo sulla Firenze Mare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, 3 km di coda tra BV11 Firenze Nord e Firenze Peretola e code a tratti tra Pistoia e BV11 a 1, tutto verso Firenze. In FIPI per lavori di miglioramento della sicurezza, coda di un chilometro tra Montelupo e La Strassigna verso Firenze. Ricordiamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Meropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!